questa è morbegno alle ore 9 di stamattina questa invece è sempre morbegno alle ore 9 ma di lunedì 30 ottobre ovvero la mattina che ha preceduto l'inaugurazione della nuova variante della statale 38 trovare le differenze non è difficile da quando la tangenziale è stata aperta ufficialmente al transito la cittadina della bassa valle ha cambiato totalmente volto almeno sotto il profilo del traffico basta mezzi pesanti basta code chilometriche meno smog e molta più vivibilità attraversare la strada per gli abitanti del morbegnese ora risulta decisamente più sicuro e per chi deve raggiungere la cittadina senza utilizzare la variante i tempi sono decisamente migliorati i cittadini sembrano essere contenti della nuova morbegno l'area è povera di inquinamento e il caos dovuto al traffico è solo un lontano ricordo com'è invece la situazione dei commercianti avranno ripercussioni negative dall'apertura della nuova strada forse ancora troppo presto per saperlo solo il tempo e la capacità dei negozianti di radicarsi sul territorio potranno dare risposta a queste domande il traffico è diminuito di parecchio sembra un po più morta ma chiaramente anche per l'inquinamento è una cosa favorevole quindi dobbiamo essere bene incontenti di quanto è avvenuto giro tanto a piedi la macchina la prendo raramente e quindi noto la differenza il morbegno comunque economicamente non debba perdere per cosa tangenziale logicamente da una parte togliamo l'inquinamento non possiamo pretendere di avere tutte le cose vedremo un attimino però non credo che sarà proprio così penalizzata è cambiata molto perché il traffico è molto meno e si va più veloce anche tangenziale penso che ha portato io anche un bel po di di commercio per il morbegno penso per i negozi c'è meno traffico in paese diciamo la gente forse respira meglio diciamo che il tunnel aiuta a superare questo passaggio però una volta che si arriva poi alla fine del tunnel si rimane nel tunnel in coda perché quando nelle orari di punta si respira quello che c'è insomma è stato un aiuto ma secondo me dovrebbero allungare ancora cercare di fare una tangenzialina che arrivi almeno a sondrio aiuterebbe di più è morta a livello di traffico quello sì però se una città sa inventarsi sa creare può insomma indurre il turismo a venire a possono fare insomma volere e potere dal punto di vista cittadino è molto più diciamo bello poter camminare senza il casino delle macchine il traffico così anche perché in questo punto qua specialmente c'era sempre tantissima gente di ma c'è tantissimo traffico più che altro e quindi anche secondo me le persone erano meno invogliate ad uscire dal punto di vista commerciale invece diciamo che anche in quel caso lì è un po più diciamo vivibile anche per i clienti nel senso che hanno la possibilità di venire qua tranquillamente senza incertarsi nel traffico così e